Ah, lo so, lo so! La parolina PROPRIO crea molta confusione agli stranieri, non soltanto per come si scrive, ma anche per la sua pronuncia e, ovviamente, l'uso. PROPRIO! Vuoi fare lezioni di italiano con insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo! Scegli il corso che fa per te e comincia a imparare da subito!